inaugurata dal presidente Polverini. Entro un mese il campo nomadi della Martora a Roma sarà chiuso e la prossima settimana inizierà il trasferimento della popolazione nomade nelle strutture autorizzate. Quanto emerso durante un incontro tra il sindaco di Roma Gianni Alemanno, l'assessore alle politiche sociali Sveva Belviso e i rappresentanti del gruppo di coordinamento che fungerà da mediatore sociale tra l'amministrazione capitolina e la popolazione Roma. L'incontro in rappresentanza dei nomadi era presente anche Nagio Azovic. Nel campo attualmente sono ospitate circa 350 persone. I nuovi campi per i quali sono già state individuate tre zone addetto Alemanno saranno aree ordinate lontani dai centri abitati con presidi di sicurezza.